Vai, puoi andare. Allora, buonasera, ringrazio Mauro della Libreria Salvenni per aver invitato alla presentazione del seminario Chinesiologia Quantistica che si darà domani dopo domani qui a Firenze. Stasera siamo qui perché facciamo una presentazione, un'introduzione al seminario e vi vorrei illustrare cos'è la Chinesiologia Quantistica e quanto per me sia importante, io considero addirittura la Chinesiologia come patrimonio dell'umanità, dovrebbe essere alla portata di tutti e tutti dovrebbero conoscere come sia possibile andare in regressione nell'inconscio in modo così semplice per andare a scoprire quelle che sono le memorie che ci portiamo dietro dal passato e che ci impediscono in fondo di essere felici e di vivere una vita piena e sono convinto dopo 39 anni di studio della medicina, perché ho iniziato a studiare medicina esattamente nel 1977, quindi 39 anni fa, qui a Firenze, a portare gli studi di Firenze, sono convinto che questo mio percorso come medico che mi ha portato alla scoperta di quelle che dovrebbero essere le cause delle malattie e quindi quello che mi ha dato la medicina accademica sotto forma di scienza e quindi di dimensione della medicina da un punto di vista accademico, quindi la diagnosi, la prognosi e la terapia delle malattie da un punto di vista direi meccanicistico, quindi la terapia farmacologica è intesa come soppressione dei sintomi di diagnosi che sono fatte secondo un paradigma che è un paradigma che ormai considero obsoleto perché si basa su concetti che sono scientifici ma che sono basati su un piano che è quello molecolare, quello biochimico, ma lo studio della fisica quantistica mi ha portato proprio vedere che al di sotto del piano molecolare abbiamo gli atomi, abbiamo gli elettroni, i protoni, i quark, le stringhe e che noi siamo fatti esattamente tutte queste cose e soprattutto l'idea che il 95% della nostra realtà in fondo sia collegata con l'incoscio e solo il 5% della realtà che viviamo e gestita dalla nostra parte coscia, mi ha fatto comprendere che evidentemente i miei studi dovevano rigorgersi verso altri versanti della conoscenza e quindi quello che mi era stato insegnato alla facoltà degli studi in Firenze, alla facoltà di medicina e poi nelle due specializzazioni che ho intrapreso, quindi sia malattie dell'apparato respiratorio, appunto medicina internistica e come psichiatria, quindi lo studio della psiche, perché già tanti anni fa avevo compreso che era importante stabilire un collegamento tra la mente e il corpo, perché quando il corpo si ammala c'è sempre un risvolto a livello psichico e quando c'è una problematica psichica o emozionale c'è sempre un collegamento col corpo fisico, però anche questo non mi è bastato, mi mancava l'anello di collegamento e l'anello di collegamento l'ho trovato appunto attraverso lo studio della fisica quantistica e la fisica quantistica secondo me dovrebbe essere applicata nella realtà quotidiana perché dovremmo conoscere quelli che sono i fondamenti attraverso gli esperimenti, non so, quello della doppia fessura o l'integnimento quantistico attraverso appunto il principio di Pell o l'esperimento virtuale del gatto di Schrodinger o la teoria dei multimondi di Everett, sono tutte informazioni che purtroppo non ci vengono date a scuola ma che dovremmo imparare successivamente e ci dovrebbero essere insegnate in modo semplice per poterli applicare nella nostra realtà quotidiana perché la nostra vita è fatta soprattutto del mondo dei quanti, è fatto soprattutto di fisica quantistica anche se ci sembrano concetti così lontani dalla realtà di tutti i giorni. Quindi imparare questo e riuscire ad applicarlo nella realtà di tutti i giorni potrebbe essere, potrebbe rappresentare per ogni persona una svolta direi epocale perché potremmo finalmente cominciare a capire come funziona la vita, perché viviamo e interagiamo con gli altri, con le altre persone in un certo modo, quali sono le radici del nostro comportamento, della nostra educazione, del nostro temperamento, del nostro carattere, perché ci comportiamo in un certo modo di fronte a determinate situazioni che ci offre appunto la vita di tutti i giorni e perché non facciamo determinate cose, perché non riusciamo a realizzare i nostri desideri, i nostri bisogni, perché non riusciamo a essere realmente noi stessi, perché dobbiamo spesso adattarci o scendere a compromesso con determinate situazioni. Io sono convinto che tutto questo tenivi da memorie che ci portiamo dietro dal passato e allora ho cercato di trovare delle chiavi di lettura diverse rispetto a quello che mi era stato insegnato a livello accademico e tutto questo l'ho trovato nell'applicazione pratica della fisica quantistica nella realtà quotidiana attraverso un test che si chiama test kinesiologico e ho creato una kinesiologia, semplificandola rispetto alle informazioni che mi erano state date, l'ho chiamata proprio kinesiologia quantistica, perché intanto da dove parte la kinesiologia? La kinesiologia parte dal presupposto che la mente mente, ma il corpo non mente mai, cioè attraverso il corpo noi possiamo ricepire dei messaggi che ci vengono dall'incoscio. E come possiamo fare tutto questo? Attraverso un test che si chiama test muscolare, questo è il test kinesiologico, cioè diamo degli stimoli, quindi facciamo delle domande al nostro incoscio e la risposta avviene attraverso un semplice test muscolare ed è una risposta che è del tipo vero o falso, quindi sì o no. Quindi si parte sempre dal corpo fisico, però si cerca di, si fa una domanda all'incoscio e quindi si cerca di interagire con l'incoscio della persona, proprio perché abbiamo detto che il 95% della nostra realtà è incoscia, quindi noi pensiamo di avere un libero arbitrio e quindi decidere della nostra vita in base a una dimensione razionale che abbiamo acquisito nel corso del tempo, in base alle informazioni che abbiamo ricevuto sin da piccoli, intanto dai nostri genitori, poi dai nostri insegnanti, dai sacerdoti, dai mass media, però fondamentalmente il 95% della nostra realtà è incoscia. E allora la kinesiologia quantistica ci permette proprio di decodificare nuovi dati di realtà con un metodo molto veloce, molto semplice direi, perché chi parteciperà domani al seminario vedrà che la parte teorica dura poco meno di tre ore, in due ore, due ore e mezza, si spiega la teoria, adesso ve la faccio vedere, vi farò vedere i vari passaggi e dopo si inizia a lavorare proprio per quello che riguarda appunto la parte pratica. Un test muscolare perché si trova un muscolo, il muscolo del corpo in questo caso noi utilizziamo i muscoli delle mani perché ci sembrano i muscoli che attraverso i quali più semplicemente possiamo arrivare alla interpretazione dei risultati, mentre diversi test ginesiologici vengono fatti con altri gruppi muscolari, per esempio quello più più nodo, più diffuso, che è questo. È un test, io direi, un po' complicato perché? Perché semplicemente, vi faccio vedere, vediamo, vi faccio vedere la persona si mette, l'operatore si mette dietro e si tiene una mano, la mano sinistra sulla spalla e si dice alla persona di fare forza verso l'alto, mentre io cerco di abbassarlo, quindi fai forte verso l'alto e si tara la forza muscolare della persona, questo diciamo forte, è il test ginesiologico più diffuso, a quel punto per esempio si può far dire alla persona un'affermazione che dovrebbe corrispondere a verità, per esempio, come ti chiami? Riccardo. Allora, io sono Riccardo e si vede? Io sono Riccardo. Riccardo e fai forte. Se facciamo dire un'affermazione che assolutamente non è veritiera, quale può essere, io sono Giuseppina e ho le mestruazioni, quindi un'affermazione assolutamente non vera. Sono Giuseppina e ho le mestruazioni. Ecco, chiaramente il muscolo indebolisce perché c'è l'operatore sempre una differenza tra la forza che la persona esercitava prima e la forza che si esercita adesso, perché al momento in cui facciamo un'affermazione che non corrisponde al vero, ci indeboliamo. Ecco, questo è in sintesi il test ginesiologico. Grazie. Questo significa che fondamentalmente tutte le volte che noi diciamo delle bugie a noi stessi ci indeboliamo. Perché tante persone oggi sono stanche, sono sempre stanche? Perché vivono una vita che forse non gli appartiene. Magari escono di casa la mattina, magari non vorrebbero neanche svegliarsi, magari sono costretti a svegliarsi a un'ora che non corrisponde con quelle che sono le loro esigenze, magari vorrebbero dormire un po' di più. Poi vanno a fare un lavoro che non è più in risonanza con quelle che sono le loro aspettative, i loro bisogni e i loro desideri. Magari litigano anche col capo ufficio, poi tornano a casa, trovano un marito o una moglie o un partner con il quale ormai vivono un rapporto che è un rapporto di tipo opportunistico e poi hanno tante di quelle cose da fare durante la giornata e che alla fine della giornata sono stanchissimi. Ma al di là della stanchezza fisica è probabile che abbiamo detto delle bugie a se stessi, quindi si sono indeboliti, si sono indeboliti a livello energetico, quindi hanno disperso tantissime energie perché non sono riuscite realmente ad esprimere al meglio la loro vera essenza. Il test kinesiologico, questo semplice passaggio ci ha fatto capire che tutte le volte che noi diciamo una bugia a noi stessi ci indeboliamo. Dire una bugia a noi stessi significa anche fare un lavoro che non ti piace ed essere costretto a farlo, stare con un partner che non è più in risonanza con te oppure continuare a fare una vita che non ti appartiene più. E questo diciamo è il test kinesiologico classico, quello che voi vedete fare nella maggior parte dei casi. Noi però utilizziamo degli altri muscoli indicatori che sono quelli delle dita delle mani perché abbiamo visto che questo test dopo un po' di tempo, se a meno che la persona non è un culturista, quindi sapete quelli che fanno palestra tutti i giorni, che si allenano e quindi hanno dei fasci muscolari ipertropici, dopo un po' di tempo facendo così ci si stanca. Siccome il test dura un quarto d'ora, 20 minuti, è difficile stare un quarto d'ora o 20 minuti con il braccio con l'arto superiore in questo modo, in questo modo quindi disteso e abbiamo pensato che fosse più facile trovare come muscolo indicatore del test dei muscoli che sono quelli delle dita delle mani e quindi alla fine utilizziamo questi muscoli. Si fa quello che viene definito ring anello. A cosa serve questo? Perché la possibilità di trovare il muscolo indicatore ci dice che una volta ricercato questo muscolo, che è il muscolo che tiene ma alla fine cede, quindi io devo sentire una certa forza e dopo un po' di tempo il muscolo cede. A quel punto avendo trovato il muscolo indicatore, quello è il muscolo fondamentale di tutto il test, nel momento in cui daremo delle informazioni, chiederemo quindi sotto forma di affermazioni delle domande, faremo delle domande all'incoscio, quindi chiederemo delle informazioni, a seconda se il muscolo sarà forte o sarà debole, ci verrà data una risposta che è la risposta che cerchiamo, attraverso appunto la risposta forte o debole del muscolo indicatore. Quindi la parte fondamentale del test è quello di ricercare il muscolo indicatore. Dopodiché abbiamo la possibilità di comprendere se la persona è o meno in switch energetico, cos'è lo switch? Un'inversione della polarità energetica che è legata al fatto che la persona magari quel giorno ha venuto poca acqua, oppure magari si trova in una condizione di ipoglicemia, oppure magari è realmente stanco perché magari ha dormito male, oppure ha una situazione a livello metabolico, a livello fisico, che crea un'inversione della polarità energetica, quindi impedisce il libero fluire dell'energia all'interno dei meridiani di acopuntura. Questo si chiama switch. Può essere appunto un problema fisico, può essere un problema emotivo e quando la persona è in switch energetico è una persona che ha una situazione ipoergica, cioè di abbassamento dell'energia vitale. Quindi il test in quel caso non si potrebbe eseguire. Abbiamo però la possibilità di eseguire lo stesso il test perché attraverso delle tecniche che sono molto semplici, quindi la pressione, la digitopressione sul punto zero di Nogere, che è un punto di auricoloterapia che si trova all'interno dell'orecchio e poi un altro punto di acopuntura che si chiama tre intestino tenue, che si trova esattamente in questa parte della mano, abbiamo la possibilità, la persona, di fare in questo modo, questo lo potete fare tutte le volte che vi sentite stanchi e contemporaneamente l'operatore si mette dietro la persona e fa una digitopressione sui punti zero di Nogere. Bastano 30 secondi, si fa ispirare e respirare il paziente e dopo 30 secondi si è innalzato il livello energetico. Per un certo tempo bastano 20 minuti, mezz'ora, che permette appunto alla persona di poter farsi fare il test perché ci basta quella mezz'ora di innalzamento di energia vitale, ovviamente facendo queste manovre non posso tenere alto il mio livello energetico per un lungo periodo, però ci basta quella mezz'ora per permettere alla persona di essere testata e quindi questo si chiama test della polarità, una volta che la persona non è più in switch, ammesso che lo fosse, abbiamo la possibilità di poterlo testare. Possiamo capire se è in switch perché adesso vi faccio vedere, abbiamo un test che si chiama test della polarità e vediamo sempre col muscolo indicatore se il muscolo è forte o debole. Adesso io vi sto dicendo la parte teorica, poi ve lo farò vedere. A quel punto abbiamo un altro test che si chiama disorder control e ci permette di capire se il muscolo indicatore che abbiamo trovato è realmente quello giusto. E nel momento in cui siamo sicuri che abbiamo trovato realmente il muscolo indicatore, che è quello giusto, quindi il test si può eseguire, che il paziente non è in switch energetico, quindi la sua polarità è quella con la quale è possibile eseguire il test, quindi una polarità ottimale, a quel punto facciamo fare alla persona i mudra. Cosa sono i mudra? Sono dei gesti antichi dell'energia, noi abbiamo, ce ne sono tantissime, ce ne sono centinaia, ma ne abbiamo classificati nove e sono quello osteoposturale, quello allergico metabolico, quello entochino emozionale, quello circolatorio linfatico, quello legato alla spiritualità, detto anche in una della consapevolezza o del senso dell'identità, quello dei chakra, quello delle geopatie, quello dei meridiani di acopuntura e quello costituzionale, sono nove mudra. In questo modo, attraverso i mudra possiamo aprire dei file, quindi delle finestre, che ci permettono di comprendere se il problema che vogliamo andare a esaminare e che vogliamo comprendere, perché vogliamo cercare di comprendere quali sono le cause primigenie per cui la persona continua ad avere un sintomo fisico o continua ad avere o vivere un disagio emozionale, perché l'obiettivo del test e del motivo per cui l'ho chiamato test kinesologico quantistico è quello di partire da un'intenzione, in fisica quantistica si direbbe collasso della funzione d'onda nell'orizzonte degli eventi, quindi esprimere un'intenzione e focalizzare, come un raggio laser andando in profondità nell'intoscio, focalizzare l'attenzione su quelle che sono le cause primigenie che provocano a livello fisico, a livello emozionale, quel disagio, che appunto è corporeo o emotivo, che stiamo vivendo nella realtà di tutti i giorni. Quindi apriamo questi file e chiediamo all'incoscio se quel problema deriva da una situazione che riguarda una problematica osteoposturale, quella che poi dovrebbe essere trattata dagli osteopati, dei posturologi, quindi che riguarda la postura, quindi l'apparato osteoartromuscolare, quindi le fasce, i legamenti, i muscoli, la postura stessa, le ossa, le articolazioni, oppure un problema di tipo allergico-metabolico, quindi se è un problema che riguarda una situazione di iperergia verso l'esterno, quindi di tipo allergico, oppure di tipo metabolico, oppure una situazione che riguarda il sistema endochino o la sfera emotiva, si chiama mudra endochino emozionale, o un problema che riguarda la circolazione, sia quella sanguina che linfatica, o un problema che riguarda la consapevolezza, il senso dell'identità della persona, detto anche appunto mudra della spiritualità, perché è quello che ci dovrebbe connettere con una dimensione che riguarda proprio il collegamento con la divinità, quello che i cinesi chiamano chi, quello che gli indiani chiamano prana, c'è questa energia cosiga, questa energia universale che fa parte dell'universo che ci circonda, e quindi quando parliamo di mudra spirituale intendiamo anche mudra della consapevolezza o mudra dell'identità, chi sono io, qual è il senso della mia vita, perché sono qua, perché sono qui su questo pianeta, quindi è il mudra dell'identità personale e della consapevolezza. Poi c'è il mudra dei chakra, basta conoscere i sette chakra fondamentali per comprendere se il blocco che stiamo vivendo è collegato con uno o più chakra. Andiamo a ricercare tra l'altro il chakra che chiamiamo cuore di catena causale, cioè il chakra da cui dipende, dal cui blocco, dal cui disarmonia dipendono poi tutte le situazioni che stiamo vivendo a livello fisico, a livello emozionale. L'altro mudra è quello geopatico, la geopatia è l'interazione con frequenze elettromagnetiche esterne, con situazioni che sono collegate oggi sempre più frequenti, sistemi wifi, sistemi modem, i cellulari, i ripetitori per i cellulari, ma è anche mudra che riguarda l'interazione con energie dense da cui siamo magari circondati, quindi non soltanto la geopatia intesa come frequenze elettromagnetiche nocive, ma anche la geopatia intesa come interazione con energie dense che magari ci vampizzano. E questo attraverso il test lo possiamo anche chiedere. E poi c'è il mudra dei meridiani di acopuntura che ci permette di capire come avviene la libera circolazione dell'energia nel tema dei meridiani di acopuntura e poi quello costituzionale che ci permette di comprendere se il problema che stiamo andando a esaminare è legato proprio alla nostra costituzione, cioè a quello che è avvenuto sino a quando eravamo piccoli. A questo punto abbiamo la possibilità di andare ancora di più in regressione nell'inconscio perché abbiamo la possibilità di chiedere al test attraverso questo foglio che contiene 168 possibilità, sono 168 tipi di blocco che possiamo vivere nella realtà di tutti i giorni. Sensazione totale di ingiustizia, pensieri alternati sull'amore, melanconia, conflitti sessuali, paure cristallizzate, pensieri negativi ristagnanti, autopidicismo, rifiuto del maschile, rifiuto del femminile, problemi del passato, rifiuto della propria bellezza, mancanza di coerenza, odio, problemi di contatto con gli altri, ossessività, processo da rigenerare, situazioni calmiche del passato, disarmonia tra esterno e interno, parte femminile che ha perso la capacità di rinnovarsi, parte maschile insicura e possessiva, intossicazioni fisiche e psichiche, indirizzazioni ossessive ridondanti, sono tutti blocchi che possono essere presenti nella nostra realtà quotidiana e attraverso il test possiamo sempre chiedere, quindi chiediamo attraverso il test muscolare se alla base del problema che stiamo andando a esaminare ci sono questo tipo di situazioni collegate appunto con blocchi che ci portiamo dietro dal passato. A quel punto abbiamo la possibilità attraverso il muscolo indicatore, avendo trovato il mudra e avendo posizionato il mudra su un organo o su un chakra, adesso vi farò vedere, sia possibile questo, andiamo alla possibilità, avendo la chiave e la serratura, di aprire piano piano le porte dell'incoscio in un modo non invasivo e una volta aperte le porte dell'incoscio possiamo andare in quella che chiamiamo regressione spazio-temporale, quindi possiamo andare indietro nel tempo e cercare di comprendere se il problema deriva da una situazione che ci portiamo dietro da un passato più o meno recente, quindi possiamo andare indietro nel tempo e cominciare dal giorno della nascita fino al giorno attuale oppure dal giorno attuale fino al giorno della nascita. Il test ci indicherà sempre attraverso il muscolo indicatore qual è il periodo o qual è l'anno, qual è la pensata addirittura il giorno e il mese, nel quale si è verificato il conflitto, dal quale è cominciato il conflitto e possiamo andare anche in regressione spazio-temporale andando a valutare se il problema è avvenuto nel giorno della nascita, perché il giorno della nascita è sicuramente un giorno particolare per la storia dell'individuo, possiamo andare ancora più indietro nel tempo e comprendiamo se la problematica si è verificata durante l'età gestazionale, quindi nei nove mesi quando eravamo nell'utero della mamma o al momento del concepimento, quando appunto siamo stati concepiti o addirittura per chi di voi conosce le costellazioni familiari sa quanto siano importanti tutti i conflitti che sono collegati con quello che oggi si chiama genome emozionale, quindi che ci portiamo dietro dagli avi e quindi chi di voi conosce le costellazioni familiari di Bert Hellinger sa quanto sia importante andare a sciogliere quel tipo di conflitti e soprattutto andare a comprendere da dove derivano e spesso ci portiamo dietro conflitti che derivano dagli avi, quindi linea materna, linea paterna, parte maschile e parte femminile, anche questo il test ce lo può indicare e dopo andiamo ancora più indietro nel tempo e possiamo andare a valutare se ci sono situazioni che sono collegate con altre vite. Chi di voi appunto crede alla reincarnazione sa che c'è una dimensione, sono i vari cicli, il karma, quindi sono i vari cicli che sono collegati con le vite e questa visione di tutte le tradizioni orientali per cui l'anima si incarna continuamente in vari corpi e chi di voi non crede alla reincarnazione come personalmente io penso che l'idea della reincarnazione nasce 5.000 anni fa però 5.000 anni fa non si conosceva la fisica quantistica, oggi la fisica quantistica ci dice che lo spazio e il tempo sono soltanto convenzioni dell'essere umano e quindi quando andiamo in regressione magari facciamo una regressione spazio temporale e scopriamo che una certa situazione che stiamo vivendo nella realtà attuale si collega con otto vite fa, con quella che sembra essere stata una vita vissuta cioè un'esistenza vissuta otto vite fa, io sono convinto che come afferma la fisica quantistica secondo la quale noi siamo degli esseri multidimensionali e sincronici, quindi viviamo in vari spazi tempi quindi la nostra anima eterna è infinita, stiamo semplicemente anziché vedere il tempo come una freccia orizzontale, basta vederlo in senso verticale, noi ci posizioniamo dall'alto e scopriamo che tutto è sincronico e multidimensionale, la nostra anima è eterna ed infinita, viviamo in vari spazi tempi, tutto avviene sincronicamente, simultaneamente e contemporaneamente, quindi quella che sembra essere una vita collegata con una realtà di otto vite fa, quindi magari che ci porta indietro nel 300, nel 400, è qualcosa che sta avvenendo contemporaneamente, sincronicamente, simultaneamente in un altro spazio tempo e sempre noi, siamo sempre noi alla nostra anima che lo sta vivendo sono concetti moderni che sono collegati con la dimensione della coscienza globale e secondo una concezione meccanicistica, o comunque secondo l'idea che può avere la nostra mente è molto difficile ipotizzare che il tempo non esista e che lo spazio non esista però la fisica quantistica ci dice che lo spazio e il tempo sono soltanto convenzioni dell'essere umano in ogni caso, quando facciamo il test inizologico, messo che siamo riusciti ad andare in regressione spazio-temporale, troviamo delle informazioni che risalgono ad altre vite basta semplicemente comprendere che l'importanza di quelle informazioni al di là del fatto che crediamo meno nella reincarnazione, perché non sto dicendo che la reincarnazione non sia valida, sto soltanto dicendo che probabilmente una mia incarnazione di tante vite fa quando ho scoperto di essere un monaco amanuenze e traducevo dall'antico aramaico dei testi sacri, che venivano considerati sacri e ho scoperto che quello che stavo traducendo non corrispondeva con quella che era la verità ufficiale bene, quella vita ho vissuto delle vicende particolari perché mi è stato impedito di continuare a tradurre era un monaco amanuenze, immaginate uno scenario come quello che può essere riferito al film il libro di Umberto Eco, Il nome della Rosa e quindi un monaco amanuenze che traduceva e ha tradotto qualcosa che non doveva essere non doveva essere poi tradotto in quel modo perché erano delle verità che non corrispondevano con la tradizione ufficiale della Chiesa e a quel punto mi è stato ordinato distruggere il libro, il libro poi appunto sarebbe stato bruciato e io l'ho copiato di nascosto prima che venisse bruciato e ho continuato la traduzione ecco, quell'essere, quel personaggio, quel monaco che ha trasgredito la regola e ha continuato a tradurre dal 700 anni fa ha continuato a tradurre un libro che non corrispondeva con la versione ufficiale probabilmente risuona ancora in me e io oggi mi considero un ricercatore che cerca di andare nel passato e rendere attuali dei paradigmi che sono antichi e che possiamo appunto oggi attualizzare e portare alla conoscenza della maggior parte delle persone perché questo possa migliorare il loro tenore di vita il loro benessere e dobbiamo trovare nuove visioni della realtà perché probabilmente quello che ci è stato insegnato non corrisponde con quella che è la verità, la verità che ci è stata impartita la fisioterapistica afferma che non esiste un'unica verità ma è anche vero che, perché la verità poi alla fine è soggettiva, cioè non esiste una dimensione oggettiva della verità però ognuno di noi dovrebbe trovare la propria verità e dovrebbe adattarla alla propria vita perché la propria vita sia in fondo serena, armonica, felice, in risonanza con l'ambiente in cui viviamo il test kinesiologico ci permette anche questo perché attraverso la kinesiologia quantistica possiamo comprendere quello che ci è successo nel passato, quello che è avvenuto che evidentemente continua a dare segno di sé nella realtà di tutti i giorni e che ci impedisce di essere felici e questo viene manifestato attraverso i sintomi che poi chiamiamo malattie o attraverso quei disagi emozionali che poi quando vengono strutturati vengono definite malattie vere e proprie, psichiatriche o comunque disagi psichici che vanno dalle nevrosi, le nevrosi d'ansia, gli attacchi di panico tutte le problematiche psichiche che sono oggi molto frequenti e io lo vedo spesso perché come psichiatra molte persone si recano da me perché hanno problematiche di tipo emozionale profondo e contemporaneamente hanno anche sintomi fisici e quindi il collegamento che dobbiamo fare non è più riferendoci soltanto alla psicosomatica cioè capire e comprendere che un problema psichico ha sempre una componente sul soma cioè sul corpo e una problematica corporea ammette sempre un risvolto emozionale ma dobbiamo fare un'opera di vera e propria integrazione alla ricerca di quelle che sono le cause e le cause sono sempre collegate con il passato, con memorie antiche, con fumo e pensiero con qualcosa che ci portiamo dietro che è nell'incoscio e quindi attraverso il paradigma che ci è stato insegnato all'università non possiamo andare in regressione nell'incoscio possiamo semplicemente o sopprimere un sintomo quindi non so, c'è un problema ansioso, prescriverò degli ansiolitici c'è un problema depressivo, prescriverò degli antidepressivi se c'è un problema fisico, una banale infiammazione, prescriverò degli antinfiammatori se c'è un dolore, prescriverò degli antidolorifici antinfiammatori se c'è un'infiammazione batterica, prescriverò un antibiotico, antibios, antivita perché me la prenderò con i batteri che penso sia una causa del problema e se c'è un'allergia, prescriverò un antistaminico la nostra è tutta, se chiaramente l'antistaminico non basta prescriverò un cortisonico la nostra è tutta una medicina anti, cioè una medicina soppressiva ma non va alla ricerca delle carce e devo comprendere perché a livello fisico quell'infiammazione è diventata cronica o perché a livello emozionale quella situazione che era legata a una semplice deflessione del tono dell'umore è diventata una vera e propria struttura depressiva della personalità o un'ansia che diventa talmente parossistica che magari porta agli attacchi di panico o alle situazioni ossessive o a problematiche che poi vengono affrontate con psicofarmaci sempre più potenti e voi sapete benissimo che quando in medicina si parla di patologie croniche è difficile riuscire a togliere i farmaci anzi le patologie croniche ammettono delle terapie che alla fine diventano fino al giorno della morte cioè non è possibile una semplice problematica quale può essere l'ipertensione che magari viene scoperta in un soggetto quarantenne ammette che la persona debba prendere anti-ipertensivi per tutta la vita e spesso sappiamo che dopo qualche anno quella molecola non funziona più quindi dovrà essere sussiduita con un'altra molecola e poi ancora con un'altra verranno fatte le associazioni questo perché? perché per una problematica ipertensiva per un'ipertensione arteriosa non siamo riusciti a comprendere le cause e quindi condanniamo perché poi alla fine diventa una condanna magari un quarantenne a prendere per tutta la vita uno o più farmaci dicendogli vabbè insomma l'ipertensione è un'ipertensione essenziale essenziale significa abbiamo coniato in medicina una serie di termini quando non conosciamo la causa noi si interviamo, sapete la nostra lingua italiana deriva dal latino quindi abbiamo coniato dei termini aulici essenziale, criptogenetica, idiopatica sono dei termini che stanno a significare non conosco la causa però appunto perché non conosco la causa per tutta la vita tu sarai costretto a prendere uno o più farmaci e questo si verifica per tutte le patologie croniche cronico-degenerative fino ad arrivare appunto alle patologie tumorali dove le terapie vengono fatte per anni e anni e anni allora questo perché succede? perché il paradigma di partenza è quello sbagliato il paradigma di partenza è quello basato sulla legge dei contrari cioè se io ho un sintomo devo sopprimere il sintomo se io ho un dolore devo sopprimere questo sintomo dolorifico se io ho un'allergia devo usare una molecola che è un antistaminico per sopprimere quell'allergia ma se io non comprendo la causa è chiaro che per tutta la vita sarò costretto a prescrivere farmaci se noi comprendessimo questo è l'allobatia il concetto dell'allobatia allos deriva contrario applicazione inesorabile della legge dei contrari che per me è una legge che va benissimo se usata in emergenza quindi nelle unità di rianimazione nelle terapie intensive o nei fronti soccorsi utilizzare questa legge è fondamentale perché ci permette di andare contro la morte quindi in una situazione di pericolo di vita benvenga l'utilizzo del cortisone perché il cortisone salva una vita umana se il soggetto ha un edema della glottide perché c'è uno shock anafilatico in quanto è venuto a contatto con una sostanza estranea e quindi sta soffocando io non posso andare a fare il test inesologico per capire perché è arrivato all'edema della glottide allo shock anafilatico in pochi secondi inietto endovena del cortisone salvo una vita umana non posso prescrivere il cortisone al bambino al telefono perché la mamma è preoccupata in quanto il bambino ha la febbre la tosse, la vibola, il raffreddore la febbre magari continua a essere 39 la mamma ha già dato la petipirina poi ha dato l'antipiotico e la febbre continua e quindi prescrivo al telefono il cortisone quindi il ventela sperando che il sintomo venga soppresso perché questo è quello che si verifica poi nella realtà di tutti i giorni oppure se c'è una persona un paziente che ha una malattia magari un tipo autoimmunitare le articolazioni tipo artiterone cromatoide posso pensare di prescrivere per tutta la vita il cortisone poi se non funziona il cortisone la zedioprina il polmetotrexate poi i farmaci biologici e per tutta la vita costringerò questa persona a fare una terapia che poi diventa una terapia cronica perché? perché non ho compreso la causa che ha creato quella distruzione della cartilagine articolare a carico di alcune articolazioni del corpo che chiamiamo artiterone cromatoide e questo lo potremo fare per tutte le patologie allora l'obiettivo oggi e se veramente un medico un terapeuta vuole aiutare una persona a star bene effettivo è quello di scoprire dei caos delle malattie per cui derivano le problematiche che poi chiamiamo che sono appunto fatte da una serie di sintomi che poi chiamiamo malattie e vi ricordo che ho scritto un libro che si chiama Penattia e questo libro ho intitolato Penattia attuando da un termine che ho imparato è quello che considero essere il mio maestro che il dottore Marcello Mozzellato perché per la prima volta lui affermò questa frase questa frase mi ha colpito la malattia non è qualcosa di negativo ma è una benattia è qualcosa di positivo è un messaggio che mi manda il corpo addirittura non è qualcosa da sopprimere ma è qualcosa da modulare cercando di identificare la causa che sta dietro quello che poi chiamiamo malattie ecco allora il test ginesiologico ci dà proprio la possibilità di andare nel passato nell'inconscio alla ricerca di quelle che sono le cause primigenie delle malattie allora vediamo come si svolge una seduta di chinesiologia quantistica allora la persona vediamo chi di voi vuole venire a fare un test il test serve a dovete avere però una domanda cioè c'è un quesito il test non si fa la cica è un grande errore che facevamo nel passato perché nel passato io ho imparato questo test nel 2000 e veniva fatto un test cosiddetto alla scelta cioè la persona veniva sottoposta al test e venivano fuori una serie di informazioni che erano centinaia e centinaia e alla fine dovevi cercare di assemblare e metterle insieme e integrarle oggi invece partendo proprio dal concetto quantistico del collasso della funzione d'onda partiamo da un'intenzione cioè la persona deve fare una domanda terapeuta vorrei comprendere perché nella mia vita avviene una certa cosa perché ho questo tipo di malattia o perché ho questo tipo di disagio emozionale o perché semplicemente nella vita di tutti i giorni non riesco a vivere quella situazione a esprimere me stesso in quell'altra situazione o perché continuo ad avere problemi con il mio capo ufficio con la mia parte con mia moglie con il mio marito o perché ho una problematica con uno dei miei figli o con mia suocera cioè possiamo cercare è importante fare una domanda e poi andando in regressione nel mio coscio possiamo comprendere quali sono le veramente le cause primigenie cioè quelle memorie antiche che ci portiamo dietro dal passato e che una volta sciolte perché abbiamo anche la possibilità di scioglierle con delle tecniche semplicissime che vengono appunto insegnate nel corso nel seminario sulla chinesiologia quantistica quindi ho adottato delle strategie molto veloci che ci permettono di sciogliere queste memorie si fa in pochi minuti e una volta appunto compreso il conflitto quindi andando ha andato a individuare il conflitto e una volta che possiamo sciogliere con queste tecniche molto semplici la persona finalmente si libera di quella zavorra qualcuno potrebbe pensare a una situazione karmica ecco ci liberiamo di karma gli orientali direbbero possiamo trasformare il karma in dharma lo possiamo fare in modo veramente veloce e questo ci permette sicuramente di sentirci più leggeri abbiamo liberato dal nostro campo energetico dell'energia densa e l'abbiamo fatta diventare sottile ci siamo liberati di una zavorra che probabilmente non ci appartiene o magari non ci è mai appartenuta perché magari si riferiva a situazioni che non erano nostre magari si riferivano se parliamo della vita prenatale alla mamma durante la gravidanza oppure alle costellazioni familiari secondo Bertenning è perché ce le portavamo dietro dagli avi oppure ce le portiamo dietro da altre vite oppure ce le portiamo dietro da quando siamo piccoli e magari eravamo talmente piccoli che non siamo stati in grado di codificare quello che avveniva nel momento in cui vivevamo quel tipo di situazione proprio perché eravamo piccoli e non abbiamo non siamo stati in grado vi chiederà aiuto a nessuno per le figure di riferimento allora vediamo chi vuole venire dai vieni sono straniera però capisco bene che forse questo sarà va bene sei una curiosa quindi allora come ti chiami? Larissa Larissa allora cosa vuoi chiedere alla testa? io ho sempre ho difficoltà di rispondere anche qualcuno rispira male già che io ora comincio a parlare già mi è difficile rispirare e questa difficoltà di respirazione ha comportato nel passato un problema fisico tipo asma bronchiale no no quindi è un problema assolutamente no no nemmeno claustrofobia niente però è come se avessi un respiro sempre corto sì non posso respirare sì quindi è come se ci fosse mi crea problemi perché a volte mi fa male i muscoli della respirazione in questo caso potrebbe essere a livello fisico magari un posturologo un osteopata potrebbe trovare un blocco diaframmatico no? blocco energetico magari di diaframma cioè il diaframma l'espansione del diaframma non è ottimale e quindi uno dei muscoli fondamentali della respirazione assieme ai muscoli intercostali magari impedisce l'espansione della cassa toracica oppure potrebbe essere un problema al di là della parte strutturale della parte posturale della parte fisica potrebbe essere un problema emozionale cioè sapete quanto sia importante il respiro per tutte le tradizioni orientali e questa difficoltà di respiro magari è collegata con delle memorie che la risa si porta dietro da chi sa quando perché ovviamente sono collegate con l'imposcio allora vediamo quindi si scrive sulla lavagna il nome della persona quindi la risa no no è y y s s la risa dove sei nata? Georgia no in Georgia la data di nascita? 14 16 16 16 16 16 16 a questo punto facciamo iniziamo il test e troviamo il muscolo indicatore qual è il muscolo indicatore? abbiamo detto il muscolo indicatore è quello che tiene ma alla fine c'è chiaramente dobbiamo scriviamo sulla lavagna il motivo per cui è venuto la risa quindi scriviamo difficoltà respiratoria difficoltà bene o disagio respiratorio cosa la sensazione che hai qual è? che non riesci mai a respirare liberamente mettiamo difficoltà respiratoria in modo che ogni volta ci riferiremo a questo tipo di problematica ovviamente questa è una situazione particolare perché se andassimo a fare non so una spirometria non troviamo magari non so se è mai stata fatta una spirometria che è un'indagine funzionale respiratoria che utilizzano gli epimologi per andare a vedere se c'è un deficit respiratorio magari nel caso di Larissa non troveremo nulla di particolare però intanto lei sente questo disagio lo percepisce allora troviamo il muscolo indicatore che è il muscolo che tiene ma alla fine cede quindi diciamo a Larissa di fare il ring fa il forte ok vedete com'è forte se volessi aprire questo ring il muscolo dovrei fare una forza enorme ma siccome non è una prova di forza vado verso il mignolo quindi più vado verso il mignolo più la forza di Larissa diminuisce la mia forza è sempre la stessa quindi dico a Larissa di fare il ring con un altro dito in questo caso col secondo fai forte anche questo è un muscolo abbastanza forte quindi il muscolo indicatore è quello che tiene ma alla fine cede questo è un muscolo che comunque tiene ancora abbastanza forte se io volessi aprire dovrei fare una forza enorme e quindi trovo l'altro provo l'altro lo testo forte ecco questo vedete che tiene forte 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 però alla fine cede per essere sicuro vado anche sull'ultimo muscolo quello che è collegato col mignolino forte e vedete questo apre subito quindi il muscolo indicatore che è quello che tiene ma alla fine cede che è diciamo l'elemento fondamentale di tutto il test per la rissa fai forte e questo tiene però alla fine cede con una minima forza da parte mia una volta trovato il muscolo indicatore abbiamo ho detto prima dobbiamo vedere se la rissa è in switch energetico cosa significa lo switch se c'è un'inversione della polarità perché c'è un abbassamento di energia vitale la rissa si trova in una situazione in cui il test non è possibile eseguirlo perché troveremo tutta una serie di chiamiamoli ma si chiamano falsi negativi cioè una serie di situazioni che non mi darebbero la possibilità di entrare direttamente nell'incoscio per comprendere le cause per cui la rissa è in difficoltà respiratoria allora dobbiamo fare il test della polarità e vediamo se la rissa è o non è il switch energetico guardate cosa succede io faccio così e dico alla rissa di fare forte fai forte ed è fortissima la sensazione che ho già io come terapeuta è che addirittura facendo in questo modo io ho reso più forte la rissa cioè il muscolo è diventato più forte lo senti come forte ma se guardate che succede se io faccio così quindi inverto la polarità e dico alla rissa di far forte lei apre il test della polarità indica che la rissa non è in switch energetico cioè il test si può eseguire se lo fosse con delle semplici manovre abbiamo detto punto zero di nodgel e punto tre in testino tenue direi alla rissa per 30 secondi di fare contemporaneamente queste due queste due tecniche tre in testino tenue e io premerei farei una disoppressione sui punti zero di nodgel di ambe due le rette facendola respirare ispirare e respirare e nell'arco di 30 secondi troverei un innalzamento del livello energetico di la rissa e questo mi permetterebbe nella successiva mezz'ora di poter fare il test ma questo la rissa non è in switch energetico quindi il test so che si può eseguire e a questo punto faccio il disorder control cioè vado a vedere se fosse in switch invece com'è che lo potrebbe vedere se fosse in switch energetico sarebbe così guarda no 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 se fosse in switch avrei questo è sempre il muscolo indicatore se lei fosse in switch facendo così il muscolo divento debole e facendo così il muscolo è debole o forte quindi lo switch energetico si vede quando il ci sono quattro possibilità io faccio così e poi così e il muscolo indicatore deve essere nel primo caso forte e nel secondo caso debole se invece è forte forte ho debole forte ho soltanto quando è forte e debole in questo caso guardate faccio così ed è forte faccio così ed è debole in questo caso non siamo in switch negli altri tre casi siamo in switch siamo in switch e faccio queste semplici tecniche ripeto in 30 secondi e si fa in questo modo punto 0 di noger tu fai il 3 intestino tenue e io premo sul punto 0 di noger e viene fatto il deswitchata quindi viene fatto un innalzamento del livello energetico questo lo potete fare ogni volta che siete un po' stanchi punto 3 intestino tenue è questo è un punto particolare dove c'è l'osso quindi non sul muscolo ma sull'osso dove farvi un po' male e quello serve a innalzare il livello energetico nel caso di Larissa invece non siamo in switch il disorder control ci dice ecco vediamo il disorder control ci dovrebbe dire se il muscolo indicatore è realmente quello giusto guardate che succede se io faccio così senza toccarla vi dico di far forte è fortissima molto forte non riesco neanche più a prendere pensate ma se faccio così senza toccarla e dico di far forte lei apre e il disorder control ci dice che il muscolo indicatore è esattamente quello giusto perché il primo caso è forte nel secondo caso è debole poteva anche essere inverso nel primo caso è debole nel secondo caso è forte quando io trovo una diversità muscolo indicatore forte e debole o debole e forte attraverso il disorder control mi dà la conferma che il muscolo indicatore è esattamente quello giusto e che quindi il test si può eseguire a questo punto dico alla Larissa di fare i mudra e quindi il muscolo indicatore rimane sempre lo stesso i mudra li fai con l'altra mano e quindi dico fai così forte poi 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 così poi così forte chiudi diretta le dita questo va è un mudra Perfetto. Poi così, forte. Poi così, forte. Quindi ho chiesto se le difficoltà respiratorie di Larissa sono legate a situazioni che si riferiscono a uno o più mudra. Quindi, problematiche osteoposturali, allergico-metaboliche, endocrine emozionali, circolatori o linfatiche, spirituali, relative ai chakra, geopatiche, relative ai meridiani di acopuntura, costituzionali. E l'incoscio di Larissa mi ha risposto, non te lo dico, non mi vuole far entrare, non mi permette di entrare nel sistema. Questo è possibile perché l'incoscio è incoscio, appunto, e sono... quanti anni hai? Sono 55 anni che si è costruita la sua struttura di personalità, adesso arriva una persona e vuole entrare così, in modo così semplice, nell'incoscio. C'è sempre una sorta di litrosia o di resistenza, no? Allora abbiamo la possibilità di rifiare test e di capire quali sono i blocchi e nel momento in cui verrà fuori il blocco e quindi semplicemente lo esprimiamo, abbiamo la possibilità di aggiungere un ulteriore tassello e dare quindi la possibilità all'incoscio di aprirsi, perché la persona prende sempre più consapevolezza di qualcosa che è collegato al problema che si riferisce alla difficoltà a respirare. Vediamo, fai forte, forte, dovremmo trovarne almeno uno, forte, 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 gira la pagina, sono 168 possibilità diverse, forte, 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 qui c'è qualcosa, forte, incapacità a sopportare situazioni o persone, e questo tipo di informazione la scriviamo qua, incapacità di sopportare situazioni o persone, cioè c'è qualcosa che impedisce alla lista di sopportare situazioni o persone. può essere qualcosa che si riferisce a situazioni attuali, ma possono essere anche situazioni collegate con il passato. Adesso vi vedremo. Forte, 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 basta. Il test ci dice solo questo, adesso andiamo di nuovo in regressione nell'incoscio, e facciamo così, andiamo con il mudra, così, 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 vedete che apre, siamo riusciti a entrare perché il chakra apre, così, 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 e così. C'è un problema legato a uno o più chakra. Adesso dico alla lista di fare il mudra dei chakra, quindi lo mette in basso, lo tieni però sempre inserito, e io testo i chakra, settimo, sesto, quinto, quarto, terzo, secondo, e primo. Ancora una volta non mi fa entrare, il kosho dice sì, io c'è un problema che è legato a una situazione in cui ho difficoltà a sopportare situazioni o persone, è un problema che si riferisce a un chakra o uno più chakra, però io ti impedisco di entrare. Allora abbiamo di nuovo la possibilità con le fiale test di superare questo blocco. Vediamo, tu tieni sempre il mudra inserito, forte, 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 ecco, vedete, cicatrici emozionali, e lo scriviamo, cicatrici emozionali. Quindi cicatrici emozionali vuol dire che ci portiamo dietro qualcosa dal passato che si riferisce a conflitti emozionali che hanno lasciato, che hanno lasciato, sì, delle cicatrici, quindi cicatrici significa qualcosa che l'organismo ha tentato di risolvere, però è rimasto qualcosa di irrisolto, forte, perché è legato sempre a un blocco. Sempre il mudra inserito. Forte, 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 forte. Io li testo sempre tutti, forte, 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 questa armonia tra esterno e interno. Quindi c'è un problema di mancata armonia tra la sua parte, la sua interiorità, la sua parte esterna, la sua esteriorità, la sua parte esteriore, la sua armonia tra l'ambiente e se stessa, la sua armonia tra esterno e interno. Posso farci una domanda su quello che stai facendo adesso? Sì, sì, vai. Che stai passando con il viso, in questo modo lì? Come fai, vedo da qui almeno che ci sono diverse cose? Esatto, diverse situazioni. Come che se sei, mentre passi lo senti oppure? Mentre passi lo sento e quando sono, cioè quando va, il muscolo diventa debole, vuol dire che sono sul problema. Allora, lo faccio veloce, però sono 168 possibilità, potrete stare una per una. Però io testo la fila, se la fila mi dice, qui, forte, mi volta diventa. Se la fila mi dice, ok, però vedo che vai proprio sullo specifico, nonostante tu faccio un passaggio veloce. Perché già lo sento, sono 15 anni che faccio il test, però vedrete anche domani, chi di voi farà il seminario, che dopo le prime volte sarà molto semplice, perché poi lo sentite, anche perché andate col dito sulla riga e vedete che indebolisce, a quel punto si prendono i primi tre, i secondi tre, i primi sei, e alla fine si va subito a individuare il problema. Sicuramente ci sarà la mia supervisione, però vi posso assicurare che è molto semplice. Alla fine, dopo tanto tempo, voi lo sentite, perché... Comunque, io, ecco, sono qua, sono arrivato alla disarmonia tra esterno e interno, quindi siamo qua. Forte, mi manca l'ultima riga. Forte, qui c'è ancora qualcosa. Stanchezza psicofisica. Qui, anche se si stanca abbastanza, c'è una stanchezza sia psichica che fisica. Stanchezza psicofisica. Adesso vediamo. Forte. Tieni sempre il nudra inserito. Forte. Ok, basta. Ok. Grazie. Adesso abbiamo trovato il chakra, ma dobbiamo posizionarlo su un chakra, perché dobbiamo... È come la chiave e la serratura, no? Abbiamo la chiave, dobbiamo metterla direttamente nella serratura. Vediamo qual è la serratura che ci permette di aprire le porte dell'incoscio. Testo, ultimo, poi chakra. Settimo. Sesto. Quinto. Quarto. Terzo. Secondo. Primo. Niente, non mi fa entrare. Ripeto di nuovo. Ci saranno nuove informazioni. Forte. Forte. Tieni sempre il nudra inserito. Forte. 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 Ogni volta si dice forte. Forte. Depressione energetica per sfiducia in se stessa. C'è anche una depressione energetica. C'è anche una depressione energetica. Sfiducia personale. Ci sono tutti i blocchi che sono collegati con situazioni del passato. Forte. Forte. Benissimo. Adesso vediamo se ci fa entrare. Sentimi sempre il nudra inserito. Settimo. Quarto. 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 Forte. Sesto. Quinto. Quinto. Vedete che adesso apre. Quarto. Terzo. Secondo. Apre anche il secondo. E primo. Quarto. Secondo. Quinto. Quindi è un problema legato al secondo chakra che va a creare un'interferenza sul quinto. O un problema che parte dal quinto chakra che va a creare un'interferenza sul secondo. Il secondo chakra è il collegamento tra la nostra parte emotiva e la nostra parte razionale. Tra lo yin e lo yang. La parte creativa, immaginativa, intuitiva. Perché è quella parte femminile, no? I cinestri per lo yin. E la nostra parte maschile. Quindi la parte yang. Io voglio, io posso, io devo, il senso del dovere, la responsabilità. Quindi tra la parte emotiva e la parte razionante. E quindi il test ci sta dicendo che c'è una situazione, per cui ecco, una serie di situazioni che la risa vive nella sua realtà quotidiana, che sono collegate con una mancata armonia tra la sua parte razionale e la sua parte emotiva. Eh, magari la risa è un'iper emotiva razionale, è una passionale raziocinante. Cioè, quindi vive entrambi gli opposti. Avremo bisogno di smussare un po' gli angoli, perché quando si vivono delle forti emozioni, delle forti passioni, però poi si mentalizzano, è come quando una massa ed era calda incontra una massa ed era fritta e viene giù la pioggia. Però spesso piove sempre. Eh, il test ci sta dicendo che probabilmente nella vita di la risa spesso piove. Cioè, c'è troppa aria calda e troppa aria fritta che si scontrano. C'è uno scontro epocale tra lo yin e lo yang. Questo a livello del secondo chakra. Per quanto riguarda il quinto chakra, il chakra della gola, è la capacità di esprimere la propria vera essenza, ciò che la risa è veramente. E adesso vedremo se il problema è legato a una situazione che parte dal quinto e che, appunto, crea interferenza sul secondo, parte dal secondo e crea interferenza sul quinto. Quindi, quinto, secondo, forte, secondo, quinto, forte. E il secondo che prevale sul quinto. Quindi scriverò anche qua, secondo chakra, che prevale sul quinto chakra. Beh, adesso devo dire che ho un bel po' di informazioni per poter entrare, perché adesso abbiamo il mudra, che è quello dei chakra. Lo inseriamo direttamente sul secondo chakra, quindi regione sottomedicare. Lo inserisci un po' più basso, ecco. E chiaramente, in questo caso, siamo al massimo della debolezza. Vedete che lei apre, perché ho aperto le porte dell'inconscio. Fai forte. Anche se lei fa forte, con la minima forza io apro, perché sono riuscito a mettere la chiave nella serratura. E adesso abbiamo la possibilità di fare, di iniziare il vero primo test, cioè la regressione spazio temporale. Cioè possiamo andare indietro nel tempo e cercare di capire da dove derivano queste problematiche. Intanto chiediamo ad Alissa se è vero che lei, nella vita di tutti i giorni, vive delle situazioni che sono collegate con, alle volte, proprio degli scontri epocali tra la sua parte emotiva e la sua parte razionale, tra lo yin e lo yang, la sua parte maschile e la sua parte femminile. E c'è sempre questa lotta. Se questo le impedisce di esprimere al meglio le proprie potenzialità, che è quel quinto chakra, se nel passato ha vissuto delle vere e proprie depressioni energetiche, depressioni energetiche significa che c'è, a volte si verifica proprio un calo dell'energia, ma che si deve portare per forza a una depressione, per come viene comunemente intesa, per un senso proprio di sfiducia personale. Cioè come se lei a un certo punto coinvolta nelle situazioni esterne, arriva a non credere più in se stessa e quindi ha questo senso di sfiducia nei confronti delle persone, della realtà che la circonda. Perché sembra l'otto, l'otto, l'otto e non c'è risultato. A me sembra una guerriera che ha disperso tantissime energie, cioè una persona che vive la vita è come se fosse una continua lotta, perché probabilmente qualcuno le ha inculcato l'idea che la vita va vissuta combattendo, sacrificandosi, immolandosi e quindi questa cosa lei se la porta dietro e questo poi vedremo, lei crea difficoltà respiratorie. Inoltre si verifica una stanchezza psicofisica, cioè è una persona che oltre a manifestare una situazione a livello fisico, per quello che riguarda la parte somatica, sviluppa anche una stanchezza psichica, cioè a furia di pensare tanto i pensieri poi alla fine si affastellano, sono le persone che mi dicono, dottore io penso sempre, non so, la notte vado a letto e comincio a pensare, no? Sono quelle che hanno magari difficoltà ad addormentarsi o hanno risvegli precoci o comunque che anche durante il sonno è come se non riuscissero ad avere un sonno ristoratore, perché sono le persone ipermentali, sono quelle che hanno bisogno sempre di fare tanti pensieri e anche nella realtà di tutti i giorni hanno bisogno continuamente di razionalizzare, di mentalizzare, di dare un senso diciamo razionale a quello che stanno vivendo, ogni minuto, ogni secondo, cioè è come se la struttura di personalità si fosse formata intorno a questa idea che tutto deve essere razionalizzato, mentalizzato, analizzato, quindi siamo nella dimensione, nel mondo dell'analisi, non della sintesi, siamo nel mondo non dell'analogia, della simbologia, ma nel mondo dell'analisi e voi sapete che più analizziamo, più frammentiamo, più disperdiamo, più dividiamo, più separiamo, più andiamo nella dimensione del diavallon, diavallon è la nostra mente egoica, dal greco significa colui che divide, colui che separa, la vita invece è unità, non posso vivere la vita in una dimensione di frammentazione, di divisione, perché altrimenti comincia il giudizio, la critica e in questo caso è venuto fuori della risa che lei vive ogni tanto un senso di sfiducia personale, come se ci fosse un censore interno con il dito puntato che le dice sì però alla fine in fondo non vali tanto, potresti fare di più, adesso vedremo se magari questa è una cosa che le deriva da quando era piccola, perché magari ci possono essere state delle input, delle informazioni che sono state date dalle figure di riferimento e tantissime persone mi dicono sì, effettivamente quando ero piccolo, sia il papà, la mamma o gli insegnanti dicevano ah ma tanto tu non riuscirai mai, non sarai mai una persona che potrà fare grandi cose nella vita perché in questo momento hai sbagliato questo, non sei in grado di fare quest'altro e quindi il bambino acquisisce questo tipo di informazioni e poi per tutta la vita andrà a risuonare, la sua vita andrà a risuonare con quel tipo di memorie che si porta dietro dal passato, che può essere appunto un passato più o meno recente quindi una situazione di sfiducia personale, di scarsa autostima o di mancanza di vera e propria autostima che deriva dal fatto che ha ricevuto delle informazioni dalle figure di riferimento sin da quando era piccolo poi c'è una disarmonia tra esterno e interno, proprio perché Larisa vive questa disarmonia la vita viene vissuta in questo caso come se fosse una lotta tra l'interno e l'esterno non c'è un'armonia, c'è una continua, più che una guerra, che magari guerra è una definizione un po' estrema ma una vera e propria conflitto, una serie di conflitti tra quello che è dentro di sé quindi la parte di Larisa che riguarda la propria interiorità e quello che è l'esterno, cioè l'ambiente in cui vive e poi ci sono delle cicatrici emozionali, adesso vedremo quali, perché il test sicuramente ci lo dirà che sono collegate con l'incapacità di sopportare situazioni o persone cioè lo spirito di sopportazione di Larisa probabilmente è arrivato all'estremo ma ci sono state situazioni, eventi o persone con le quali lei è entrata in contatto che a un certo punto le hanno dato un'incapacità, le hanno fatto vivere un'incapacità di sopportare allora a quel punto le possibilità sono due, o sopporto e scendo a compromesso oppure continuo a lottare e però in che modo, vedete cosa succede? disperdendo tante energie, andando a somatizzare sul corpo fisico e il test ci dice che tutto questo si riflette sulle difficoltà respiratorie che cos'è la respirazione? con la respirazione noi inaliamo dall'esterno l'ossigeno che ci permette di vivere e buttiamo fuori annibida carbonica che a quel punto se rimanesse nell'organismo sarebbe una sostanza tossica quindi quando c'è un problema di tipo respiratorio c'è una situazione che ci fa capire che c'è un problema tra l'interno e l'esterno sempre perché noi abbiamo bisogno di prendere ossigeno che ci permette appunto di vivere perché a livello delle nostre cellule c'è una respirazione, si chiama respirazione cellulare all'interno dei mitocondri che sono degli organi fondamentali perché all'interno di questi avviene il ciclo di Krebs che è appunto quello collegato con la respirazione cellulare e i mitocondri sono la centrale energetica della cellula se non avessimo questi mitocondri la cellula non potrebbe vivere e tutto questo è legato alla possibilità di utilizzare ossigeno e poi emettiamo annibida carbonica che appunto se rimanesse nell'organismo sarebbe una sostanza tossica ecco, quando c'è un problema di difficoltà respiratoria c'è sempre una mancata armonia tra l'interno e l'esterno e il test, come vedete, ci ha dato ampia conferma di questo vediamo se tutto quello che ho detto è vero se la risa si risuona con questo se ci sono dubbi benissimo comunque io pensavo, sono convinta che io amo persone e sto bene tra gente eccetera questo è un mio connessione cioè che sei una persona che ama molto stare in mezzo alle persone sì, sì, ma infatti la... non trovo difficoltà per comunicare assolutamente il vero problema è che da una parte lei ama stare in relazione e risonanza con le persone però c'è una parte del suo inconscio che adesso vedremo quale perché quello che andiamo adesso a valutare è la situazione inconscia cioè quella che lei non conosce c'è qualcosa che le impedisce a livello più emozionale e profondo di entrare in armonia con l'ambiente esterno e questo si traduce con le difficoltà respiratorie pur pensando che non ci siano problemi di tipo relazionale cioè ti piace molto interagire con gli altri ecco, spesso tutte le problematiche nascono proprio da questa disarmonia chiamiamola dicotomia, ambivalenza tra l'interno e l'esterno tra quelle che sono i nostri bisogni, i nostri desideri e quelle che sono poi e quello che avviene nella realtà di tutti i giorni di salmonia tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere ecco, questo poi è il senso di tutto quello che poi troviamo attraverso il test kinesologico vediamo a questo punto visto che abbiamo la chiave e la serratura quindi inserisci il mudra di andare finalmente in regressione spazio temporale e quindi chiediamo al test se il problema di Larissa è un problema che riguarda questa vita attuale quindi dal 15 gennaio perché il 14 gennaio il 15 giugno perché lei nasce il 14 giugno del 60 quindi dal perché il giorno della nascita poi lo consideriamo a parte perché è un giorno particolare quindi diciamo dal 15 gennaio del 60 ad oggi questo problema è legato a difficoltà respiratorie dal 15 giugno dal 15 giugno del 60 ad oggi è un problema che riguarda questa vita quindi 15 gennaio del 60 ad oggi è un problema di questa vita forte che si riferisce ovviamente alle difficoltà respiratorie fai forte beh, guardate cosa succede succede che il muscolo è forte quindi l'inconscio di Larissa a quale io mi sto rivolgendo mi sta dicendo guarda puoi fare mille discorsi puoi fare 300 tipi di psicoterapie diverse per andare a scovare l'origine emozionale profonda delle sue difficoltà respiratorie cercando di, non so valutando tutto questo da un punto di vista psicanalitico freudiano, jungiano, laghesta la terapia transazionale la terapia cognitivo-comportamentale ma il test mi sta dicendo che lei conoscerebbe meglio se stessa però non andremo alle cause del problema perché la causa non si riferisce a questa vita allora vediamo se è un problema che riguarda il giorno della nascita allora 14 giugno del 1960 tieni sempre il mudra inserito fai forte così riguarda il giorno della nascita quindi quando sei nata? e a che ora? a che ora sei nata? non lo so non lo so era in ospedale o a casa? in ospedale in ospedale allora credo la mamma non c'è più non c'è più e nessuno mai ti ha detto se sei nata di mattina di pomeriggio di sera quindi non ha mai potuto calcolare l'ascendente nel segno zodiacale va bene allora vediamo focalizziamo l'attenzione sul 14 giugno del 1960 in questa cittadina come si chiama? Uta 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 della Giorgia che io non conosco però focalizzo l'attenzione esiste perché lei ci assicura che esiste e andiamo a vedere cominciamo dall'ora zero quindi del 14 giugno del 60 facciamo da zero uno forte due tre quattro cinque iniziamo dalla mattina sei io quando dico sei faccio dalle sei alle sette sette otto nove dieci dieci dodici tredici guardate che sta nascendo eh tredici dodici qui c'è il travaglio inizia il travaglio intorno alle dodici fai forte dodici e trenta forte forte dodici dalle dodici alle tredici allora iniziamo dodici dalle dodici alle dodici e un quarto dalle dodici e un quarto alle dodici e trenta dodici e quindici forte quindici forte alle dodici e sedici nasce dodici e sedici del 14 gennaio così puoi fare anche giugno nel giugno dodici ore dodici e tredici dodici e tredici per quattordici giugno del sessato a questo punto c'è informazione il test mi ha già detto che vediamo se è un problema che riguarda il travaglio cioè se qualcosa che è successo dalla mezzanotte di quel giorno fino a mezzogiorno o dopo è un problema che riguarda le difficoltà respiratorie quindi se tieni sempre il modello inserito e vediamo se questo problema respiratorio è collegato con il travaglio del parto quindi facciamo le 12 ore precedenti quindi dalle ore 0 alle ore 12 forte 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 no quindi se è un problema che riguarda il momento in cui c'è la nascita quindi che viene fuori forte no se è un problema che riguarda i minuti o le ore successive alla nascita forte sì è un problema che riguarda quello che è avvenuto dopo allora vediamo che cosa può essere avvenuto quindi la visa nasce e nasce in ospedale sembra di capire no? quindi cosa c'erano? stretti stretti sì non precisato per niente però in tempo e qui c'è un problema che riguarda vediamo quante ore successive vediamo se si riferisce solo a quel giorno alle 12 ore alle 24 ore sì è qualcosa che addirittura va a finire nel 15 gennaio nel 15 giugno del 60 nel 15 giugno del 60 quindi diciamo nelle 24 ore successive è successo qualcosa probabilmente ci può essere stata qualche complicanza respiratoria chiediamo al test se c'è stata una complicanza respiratoria nel post nascita forte sì ci dice di sì magari l'ospedale non era attrezzato per la neonatologia oggi sapete che esiste la divisione di neonatologia da piccola non era non era in grado avrebbe magari avuto bisogno di ossigeno e di terapie intensive neonatali magari per poche ore però questo non è stato possibile è andata quindi in difficoltà respiratoria la risa non nata ha memorizzato quel tipo di informazione appena venuta al mondo ha avuto difficoltà a respirare e il test ci sta dicendo che se lo porta dietro questa memoria adesso dobbiamo cancellarla perché è qualcosa che si porta dietro da 55 anni tra poco 55 anni cioè non è stato un problema nel travaglio perché potevamo pensare a un'ipossia prenatale sapete che c'è un indice che si chiama indice di Apgar che i medici, i ginecologi hanno definito per vedere se la persona ha avuto una sofferenza durante il travaglio prima quindi della nascita in questo caso la test ci sta dicendo che non c'è stato questo tipo di problema quindi la risa nasce normalmente fisiologicamente però il problema è intervenuto nelle ore successive e nel giorno successivo nelle ore 24 ore quindi la escluderà anche il cordone perché se ci fosse stata un'ipossia neonatale magari prima della nascita potevamo pensare al cordone umbilicale quindi si poteva andare a chiedere ma anche il tipo apoto a volte nascono si nasce con il cordone al collo è quello che dice però in quel caso se fosse stato così avrei chiesto vediamo se è un problema legato al cordone umbilicale magari è un problema legato al fatto che il canale del parto non si era aperto nel modo giusto a volte bisogna fare un cesareo d'urgenza ma qui ci dice che comunque la risa nasce liquidi e per via aeree esatto il meconio sono tutte situazioni che possono essere collegate ma qui c'è una sofferenza respiratoria post natale nelle ore successive che lei si porta dietro come memoria e questa memoria poi la vive a livello proprio di informazione in generale è un essere che per nove mesi non respira perché entra indirettamente in contatto all'interno dell'utero materno e viene alimentato direttamente dalle sostanze nutritive che vengono dalla sangue della mamma ma poi improvvisamente sapete bene qualcuno ha detto che il primo respiro è comunque la prima sofferenza ecco in questo caso il test ci sta dicendo che i respiri successivi sono stati una sofferenza per lei c'era un problema che non è stato compreso bene ai tempi non c'era la possibilità di intervenire per risolvere il problema in tempi rapidi ecco perché poi io credo a titolo la neonatologia come terapie nascano negli anni 80-90 sicuramente non nella Georgia degli anni 60 a questo punto avendo avuto questo tipo di informazione che andremo a cancellare perché ti è rimasta questa difficoltà a respirare in modo libero in modo spontaneo quindi alla fine ce l'hai fatta da sola a risolvere il problema probabilmente i medici avranno compreso che c'era un problema erotore eh ce l'hai fatta lo stesso sapete in quei casi non vive il rumore magari ti avranno anche dato un po' di ossigeno però sapete che l'ossigeno è un'arma a doppio taglio cioè non bisogna pulsare quell'ossigeno perché si possono creare anche dei danni quindi ai tempi già questo si sapeva quindi avranno cercato avranno cercato di stare in una situazione di attesa e alla fine la risa ce l'ha fatta poi ha cominciato piano piano a respirare meglio però dobbiamo cancellarla questa memoria bene adesso andiamo ancora indietro nel tempo vediamo se questo problema di difficoltà respiratorie è legato a una situazione che è collegata con la vita prenatale cioè quindi nei nove mesi che riguardano la gravidanza quindi quando la risa era nell'utero materno e quindi ci riferiamo ai nove mesi precedenti il 14 giugno del 60 quindi la risa viene concepita intorno al settembre la metà del settembre del 59 e quindi io focalizzo l'attenzione nove mesi quindi dal settembre del 59 al giugno del 60 vita vita prenatale problema di difficoltà respiratorie vita prenatale tu hai sempre il mood inserito fai forte 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 no non è un problema questo poteva essere una situazione che poteva essere collegata con la mamma cioè la mamma durante la gravidanza aveva vissuto una serie di situazioni una o più situazioni che erano collegate con una problematica della mamma respiratoria che era poi andata in risonanza con le difficoltà respiratorie di Larissa bene a questo punto possiamo andare ancora indietro nel tempo e chiediamo stai cercando la causa della causa esatto vado ancora indietro nel tempo perché ho la possibilità di cercare la causa della causa a me interessano i tasselli fondamentali con un effetto domino io ho tante caselle posso buttare giù quelle che trovo e già questo è importante però perché non buttare giù la prima che è quella che ha fatto poi cadere tutte le altre e quindi ho la possibilità anche di chiedere al test se il problema visto che non è nella vita prenatale è una situazione che riguarda il momento del concepimento quindi quando Larissa viene concepita quindi è un momento fondamentale è quello del concepimento quindi che riguarda l'unione dello sprematozoico la cellula ruova e quindi l'incontro dal papà e la mamma durante il rapporto sessuale fai forte? forte? beh no mi dice di no anche lì poi si può indagare per esempio si può chiedere alla persona secondo te perché chiaramente la persona non era cosciente al momento del concepimento era soltanto a livello animico a livello energetico però si può chiedere alla persona se il papà e la mamma desideravano un figlio se volevo un maschietto o una femminuccia nel momento in cui ho un rapporto sessuale faccio l'amore perché nasca un figlio sarebbe importante sapere se veramente desidero quel figlio e magari anche il sesso del figlio del nascituro e chiediamo alla persona se lo sa e se la persona comunque non lo sa possiamo sempre chiedere al test perché il test parliamo direttamente con l'incoscio e quindi possiamo comprendere ripeto sempre se il test ci indica che è un problema che riguarda il concepimento nel caso di Larissa no quindi andiamo ancora indietro nel tempo e andiamo alle costellazioni familiari quindi teoria di Bert Hellinger no quindi se è un problema che riguarda gli avi quindi linea materna linea paterna parte maschile parte femminile questo problema di difficoltà respiratoria riguarda le costellazioni familiari fai forte forte no non è un problema di questo tipo se ci fosse stato sarei andato a chiedere se il problema riguardava la linea materna la linea paterna la parte maschile la parte femminile quindi la nonna la bisnonna la trisavola pure il nonno il bisnonna il trisavolo saremo andati a individuare esattamente da dove nasceva il problema e adesso vedrete lo avremo sciolto con le nostre tecniche bioenergetiche perché spesso ci portiamo dietro situazioni che sono collegate con i nostri avi e chi di voi ha fatto conoscere le costellazioni familiari lo sa e se non andiamo a sciogliere queste memorie che non ci appartengono perché appartengono a quello che di spazio il dottor di spazio definisce genoma emozionale se non andiamo a sciogliere quei conflitti che non ci appartengono non solo nostri ma appartengono addirittura ai nostri avi e ci riportiamo dietro e continuiamo a vivere una vita che è come se non fosse nostra non ci appartiene non sappiamo perché magari prendiamo determinate decisioni o svolgiamo determinate azioni senza comprendere realmente il motivo andiamo ancora indietro nel tempo e chiediamo all'inconscio di Larissa se questo problema di difficoltà respiratorie si riferisce ad altre vite quindi fai forte è un problema che si riferisce ad altre vite fai forte sì è un problema di altre vite allora chiediamo ripeto quello che vi dicevo prima stiamo andando in altre incarnazioni per me che seguo la fisica quantistica quello che adesso troveremo non è qualcosa che si riferisce a un'altra incarnazione a una, due, tre, cinque, dieci, venti vite fa ma è qualcosa che a livello animico Larissa sta vivendo in un altro spazio tempo perché noi siamo entità vibranti della coscienza globale siamo entità multidimensionali sincroniche viviamo contemporaneamente sincronicamente e simultaneamente in vari spazi tempi quindi quello che troveremo è qualcosa che sta avvenendo in un'altra dimensione che sembra essere legata a un'altra realtà al spazio temporale è un po' difficile da spiegarsi però se siete interessati a questo vi consiglio di frequentare l'altro seminario che porto in giro per l'Italia che si chiama il gioco della vita il gioco della vita attraverso la fisica quantistica vi porta a comprendere in questo fine settimana sabba e domenica perché siamo a essere multidimensionali sincronici e la nostra esistenza si svolge in questa realtà multidimensionale per cui per comodità diciamo altre vite ma noi sappiamo che quella situazione è qualcosa che l'anima di Larissa sta vivendo contemporaneamente sincronicamente simultaneamente su un altro piano vediamo se è un problema che riguarda una vita fa forte due vite fa forte tre vite fa quattro cinque da sei a dieci forte da dieci a venti forte da dieci a venti forte da venti a trenta forte venti forte ventuno forte ventidue forte ventidue vite fa ecco una bella ventidue vite fa cioè la testa sta avvenendo una problematica così abbastanza poco significativa perché in fondo difficoltà respiratorie e magari se lei facesse una spirometria non troveremmo nulla di particolare però si è la porta dietro pensate da ventidue esistenze da ventidue vite cioè qualcosa di molto antico allora vediamo di capire cos'è che è successo ventidue vite fa che ripeto sta succedendo sincronicamente simultaneamente contemporaneamente in un altro spazio tempo che pensiamo che si riferisca a ventidue vite fa per questo anche ha avuto queste difficoltà dopo un'ascita sì esatto e che è in collegamento con queste difficoltà che abbiamo vissuto dopo la nascita che la lista ha vissuto dopo la nascita allora vediamo ventidue vite fa dato che abbiamo di capire dove ci troviamo ventidue vite fa considerate una vita media sui cinquant'anni prima le vite le esistenze duravano molto di meno quindi facciamo ventidue per cinquanta venti per cinquanta mille anni fa però andiamo indietro allora cominciamo dal quattrocento forte 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 trecento trecento cento mille cento mille due mille cento mille novecento ottocento setticento seicento cinquecento quattrocento trecento duecento cento a zero a cento quindi stiamo parlando di cento anni dopo Cristo quindi siamo nel primo secolo dopo Cristo ventidue vite fa aveva avuto delle vite abbastanza spalmate e stese quindi primo secolo dopo Cristo ok primo secolo dopo Cristo quindi dal zero anno zero all'anno cento e vediamo di capire se è un problema che riguarda c'era un conflitto eh chiediamo possiamo chiedere se viveva voleva sapere se era se a questo punto o un po' di siccome Gesù Gesù nasce nell'anno zero e quindi mora nel 33 dopo Cristo Larissa sta chiedendo se questa ci riferiamo a qualcosa che si riferisce all'epoca di Cristo se lei vuoi sapere proprio se hai se è stata lì eri da quelle parti se hai visto Gesù sì allora fai forte quindi chiediamo se ha vissuto nella quindi Galilea Palestina dell'epoca quindi se si perché la prima cosa è andare a localizzare lo spazio quindi stiamo nel primo secolo dopo Cristo e siamo nella zona della Palestina fai forte sì interessante quindi se vive in quell'epoca potrebbe anche essere vissuta nella seconda metà della quindi dal 33 dopo Cristo oggi e vediamo invece se ha vissuto nella dallo 0 al 33 dopo Cristo forte forte sì quindi hai riconosciuto Gesù se ti trovavi lì l'hai visto almeno cioè ci puoi dare delle il tuo inconscio ci puoi dare delle informazioni su quello che è avvenuto in quell'epoca in quell'epoca vediamo se era nata prima della quindi la vita si svolge in quel periodo nella prima la prima metà del secolo del primo secolo dopo Cristo vediamo se era nata prima forte sì vediamo quanto tempo prima facciamo da 0 a meno 10 forte a meno 10 a meno 20 forte sì a meno 10 a meno 20 vediamo troviamo anche l'anno meno 10 forte forte meno 11 meno 12 meno 13 meno 14 meno 15 meno 15 era nata nel 15 avanti Cristo però una donna ecco chiediamo quindi nella ai tempi di Gesù doveva essere un adulto insomma o un adulta perché considerate la predicazione inizia qualche anno prima della sua morte il 30 credo dopo Cristo e lei nasce nel 15 quindi aveva già 45 anni quando conosce Gesù poi magari magari lo conosceva anche prima però insomma è in un'età era sicuramente un adulto adesso vediamo se l'ha conosciuto insomma allora vediamo se era una donna o un uomo quindi chiediamo se Larissa in quell'epoca era un uomo forte se Larissa in quell'epoca era una donna forte sì una donna e di donna anche in quell'epoca e vediamo di capire che cosa è avvenuto siamo nella Galilea nella Palestina dei tempi di Gesù ha visto Gesù e qual è l'informazione che può essere collegata con questa difficoltà respiratoria intanto chiediamo se sei credente se credi in Gesù se ti ha appassionato questo questo è il mio amico cosa? è il tuo amico? sì lo senti molto vicino allora chiediamole se era la Maddalena se era la Maddalena fai forte non era la Maddalena eh? cosa? vede Gesù e rimane la Maddalena chiediamo se sì a questo punto è suggestivo pensare se ha assistito alla Precifissione forte è così forte si ha assistito alla Precifissione quindi ho visto tutto insomma la Precifissione non è stata se ti vuoi ho visto mai posso dire? certo certo una volta pensandoci perché faccio il medico di nuove un po' tieni sempre mentre parli il mudra è inserito così io una volta ho visto tipo flash che hai visto mano di Gesù mano destra dove entrava il chiodo proprio questo flash però pensavo che forse è stato io dovevo mettere questo chiodo ah che eri si eri tu a mettere il chiodo se ero dona allora no no non male c'è un libro scritto colui che piantò il chiodo quindi era una donna e assistito lo conosceva anche ha avuto dei contatti vediamo se lo conoscevi forte 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 no cioè l'ho visto in quell'epoca in un momento quei giorni della credo erano i giorni vediamo se l'ultima settimana forte forte sette due giorni prima dalla in quella in quella poco prima della crucifissione quindi stiamo parlando della quando credo la folla si raduna intorno sotto Ponzio Pilato e Ponzio Pilato dice lei faceva parte della folla era una di quelle donne allora vediamo se in che senso possiamo riferirci a questa problematica respiratoria probabilmente avendo assistito alla crucifissione ha vissuto emozioni molto forti che hanno tolto il fiato e si che hanno si è sentita male è andata in una situazione di di sprea mentre lei io parlo di questo chiedo all'incoscio e l'incoscio mi risponde quindi si è sentita male perché lei è mancato il fiato c'è questa antica memoria che si riferisce a quella situazione che ha vissuto di cui è stata testimone come spettatrice passiva non conosceva Gesù nel senso che ho chiesto se era una sua discepola forte no però conosceva questa persona perché era ai tempi sicuramente aveva fatto già tanti miracoli e però assiste alla sua passione allora anche questa è una memoria che va cancellata perché è qualcosa che lei si porta dietro e oggi duemila anni dopo è una cicatrice emozionale è una cicatrice emozionale molto potente sì molto potente e incapacità di sopportare situazioni e persone questa donna non ha sopportato tutto quello che ha visto ovviamente poi tutto questo lo possiamo quindi la folla l'ingiustizia che veniva perpetrata poi viene il mal di testa quando eravamo quando qualche rimuono qualcosa manca il respiro tutte le volte che c'è un assemblamento di persone chiaramente le manca il respiro perché rivive quella vecchia memoria ecco perché incapacità di sopportare situazioni e persone la cicatrice emozionale di salmonia tra esterno e interno perché una parte di sé voleva sapete quando insomma la scena è quando fanno decidere Pilato fa decidere se Barabba o Gesù no e tutti devono dire Barabba o Gesù e sono sicuro che lei avrà detto Gesù cioè voleva che Gesù fosse liberato e ma anche tutti e due cosa? sì probabilmente probabilmente sì ma tanto di fare una scelta la maggior parte delle persone pare che abbiano scelto Barabba e c'erano pochi quelli che hanno detto Gesù quindi erano i suoi discepoli lei che non era era apparentemente neutrale io questo mentre lo lo percepisco perché in questo momento sono in risonanza con lei ovviamente mentre lo dico lei ha detto Gesù cioè avrebbe voluto che fosse liberato in fondo aveva capito che era innocente cioè che non ha fatto nulla quindi ha un senso di punto vediamo corte no no lei non è che è in colpa perché compressione che è spiaciuto però quando sì le è mancato il fiato e lei ha assistito tra l'altro alla crocifissione quindi alla passione di Gesù forse come si può dire piccola morte ha vissuto piccola morte con noi sì l'hai vissuto perché ogni volta quando ci ricordiamo c'è sempre qualche fetta qualcosa se ricordiamo non so proprio spiegare questa situazione come mi vivo quando penso quando lui portava queste croce e quando era pacificato esatto capite perché è una vecchia memoria quindi se lo porta metti sempre inserisci sempre in mudra e quindi tutte le volte che lei rivive la passione di Cristo attraverso delle scene simboliche non so se avete visto il film di Mel Gibson è un film terribile no? però fa vedere esattamente quello che è successo ovviamente lei non la potrà guardare va in risonanza adesso cancelliamo questa memoria e questo cosa ci permetterà di fare? ci permetterà di liberare la rissa da queste informazioni antichissime che sono memorie che si portano dal passato e finalmente lei comincerà a respirare meglio sembra una cosa magica adesso cosa faremo? scusa ma quindi per tutte le 22 vite probabilmente ha sempre avuto questo problema respiratorio non è mai riuscita a sciogliere quelle antiche memorie eccola qui viene una domanda noi abbiamo una visione del tempo lineare e pensare a non lineare resta un po' di tempo però in questo caso come hai detto te allora quello che stai facendo ora dovrebbe influire anche sulle 22 vite precedenti che stanno vivendo adesso immagina allora immaginate che il tempo è una linea retta e noi pensiamo che vada dal passato qui c'è il presente qui c'è il futuro è una freccia irreversibile no? io vi questo è la visione occidentale del tempo la visione orientale del tempo invece questa linea retta diventa una circonferenza quindi passato presente futuro si chiudono lungo questa circonferenza e dovete vederla come una dinamiss no? quindi i vari cicli delle reincarnazioni nel primo caso ci portiamo dietro tutte le situazioni del passato la religione addirittura ci dice che ci portiamo dietro il peccato originale quindi abbiamo bisogno di espiare il peccato originale e poi aspettare la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà perché dobbiamo poi meritarci il paradiso invece nella visione che è quella circolare abbiamo bisogno continuamente di espiare il karma e trasformarlo in dharma perché ci portiamo dietro zavoro e dal passato ecco queste due modalità che sono legate proprio al tempo se lineare o circolare sono legate alla sofferenza perché il tempo non è né orizzontale né circolare ma il tempo è verticale quindi passato quindi immaginate passato, presente e futuro io le porto lungo una linea che è verticale passato, presente e futuro mi metto in alto dalla linea e immaginate una semplice linea dove passato, presente e futuro si trovano lungo questa dimensione verticale io guardo dall'alto una linea vedo un punto e quindi tutto quello che avviene avviene in modo sincronico perché io sono semplicemente l'osservatore di me stesso dall'alto e l'osservatore di questa linea dall'alto vedo semplicemente un punto questo è il concetto del punto zero è un concetto fondamentale della fisa quantistica quindi io adesso vado sono su questo livello nel caso di Dalissa sono tante vite fa 22 vite fa pensate quindi sono un livello che è molto basso il presente è oggi il futuro è legato appunto a tutto quello che avverrà domani ma io sono qua ecco perché dico 22 vite fa è soltanto una convenzione però a me interessa andare a sciogliere quello che si è verificato in modo tale che tutto diventi armonico e che nel il che trunca cioè nel qui ed ora lei possa finalmente respirare bene quindi è un'azione che stai facendo anche sulle altre 21 vite esatto su tutto quello che avviene perché è come il gioco della mosca cieca quando arrivevamo quando erano piccoli che giocavamo a mosca cieca quando alla fine arrivevamo al traguardo e liberavamo noi liberavamo tutti e quindi in questo modo si liberano tutte le sofferenze delle altre vite e allora adesso cosa faremo semplicemente una mettiamo una sedia e a questo punto dobbiamo fare non c'è più bisogno di demutra dobbiamo fare io applico diverse tecniche faccio il quarto mentre in mente di Frank Islow quindi è la tecnica dei due punti con la triangolazione primo punto secondo punto la triangolazione si fa con quello che Frank Islow chiama eusentimenti in questo caso eusentimenti che è quello dell'amore cioè in questo momento devo amare la risa come mai nessuno ti ha amata cioè devo focalizzare l'attenzione su di te e ti devo dare tutto il mio amore perché tu possa liberarti da queste memorie che chiaramente non sono le tue non ti appartengono e nel frattempo tu sei centrata su te stesse e ti affidi e questo si chiama quantum in training tecnica dei due punti contatto con il primo punto sento lo scambio energetico che viene tra me e la risa contatto del secondo punto quindi vedete tecnica dei due punti e poi eusentimento e nel frattempo faccio dire alla risa delle frasi che riprendo dalla teoria della logosintesi Frank Islow si chiama logosintesi però io l'ho chiamata logosintesi quantistica perché le frasi sono molto simili a quelle che ha insegnato questo psicologo olandese che si chiama William Lemmers però mi permettono di entrare subito nell'incoscio e di andare a cancellare queste memorie e quindi sono quattro semplici frasi tu hai gli occhi chiusi fai un bel respiro così puoi dirci anche se il respiro che fai adesso è diverso da quello che farai dopo aver cancellato queste memorie e la prima frase è io attivo la mia essenza io attivo la mia essenza fai un bel respiro bellissimo seconda frase recupero tutta la mia energia recupero tutta la mia energia legata a tutte le situazioni legata a tutte le situazioni che mi porto dietro dal passato che mi porto dietro dal passato e che si riferiscono che si riferiscono alle mie difficoltà respiratorie alle mie difficoltà respiratorie in particolare per quello che è avvenuto per quello che è avvenuto nelle ore successive al parto nelle ore successive al parto il 14 gennaio del 1960 il 14 giugno del 1960 il 14 giugno del 1960 quando ho avuto delle difficoltà respiratorie quando ho avuto difficoltà respiratore nel prendere ossigeno e per quello che è avvenuto 22 vite fa nel primo secolo dopo Cristo quando ho assistito alla crucifissione di Gesù anche in quel caso ho avuto difficoltà respiratoria per le emozioni che ho provato nel vedere tutto quello che stava accadendo recupero la mia energia che è rimasta bloccata in quei tempi e in quegli spazi e riporto la mia energia nel giusto posto dentro me stessa giusto posto dentro me stessa qui ed ora fai un bel respiro questo è importante perché è come la favola della bella addormentata nel bosco c'è un incantesimo che è stato fatto apparentemente la principessa sembra morta ma tutti sanno che è viva abbiamo bisogno di un intervento esterno perché la principessa possa tornare a vivere in questo caso abbiamo bisogno di sciogliere quelle antiche memorie attraverso una consapevolezza che sarà poi solo quella di Larissa per permettere a Larissa di respirare meglio quindi cancelliamo quelle memorie antiche cancelliamo quelle forme pensiero che lei si porta io dal passato quelle noi le chiamiamo frammenti d'anima quelle parti della sua anima che sono rimaste bloccate in quello spazio tempo si chiamano rappresentazioni congelate o energie dense le stiamo riportando nel qui ed ora e le abbiamo riportate nel qui ed ora con questa frase adesso la frase più importante cioè quella di eliminare tutte le energie che non le appartengono e le rimandiamo verso la luce allontano da me stessa tutte le energie strane tutte le energie strane che si riferiscono a tutte le situazioni che mi porto dietro dal passato collegate con queste difficoltà respiratorie in particolare per quello che è avvenuto nelle ore successive della mia nascita le ore successive nella mia nascita quando ho avuto difficoltà quando ho avuto difficoltà a inalare ossigeno all'aria ossigeno e per quello che è avvenuto 22 vite fa e per quello che è avvenuto 22 vite fa quando da donna ho assistito alla crucifissione di Gesù a la crucifissione di Gesù e mi è mancato il respiro e mi è mancato il respiro e ho avuto difficoltà respiratoria e ho avuto difficoltà respiratoria allontano da me stessa tutte quelle energie estranee le allontano da ogni mia cellula dal mio corpo dal mio spazio personale e rimando quelle energie estranee verso la luce. Prendo il respiro e adesso ultima frase. Adatto tutti i miei sistemi al cambiamento. Aspira. Armonizzo tutti i miei sistemi alla nuova consapevolezza. Aspira. Sciolgo definitivamente tutte le memorie del passato. Sciolgo definitivamente tutte le memorie del passato che si riferiscono a queste difficoltà respiratorie. libero l'energia congelata e la metto direttamente nel mio centro perché possa fluire e mi possa permettere di respirare normalmente a pieni polmoni. a pieni polmoni. Fai un bel respiro. Sento che il diaframma finalmente si espande, i muscoli intercostali svolgono la loro funzione di ampliamento della cassa toracica e finalmente la risa sta respirando sta respirando, sta cominciando a respirare finalmente bene. questa questo durerà nelle prossime 72 ore ci sarà questa liberazione, questa catarsi potrebbe succedere qualcosa di molto bello nei sogni perché abbiamo fatto qualcosa di non invasivo non siamo andrati, siamo entrati nell'incoscio in punta di piedi abbiamo permesso all'incoscio di la risa di esprimersi liberamente e adesso finalmente sei libera e puoi permettere di vivere una vita a pieni polmoni fai un bel respiro grazie grazie bene beh, abbiamo finito grazie grazie